Il 2018 è stato un anno importante, abbiamo approvato il bilancio di previsione 2019 il 27 di novembre al Comune di Vallefoglia e il 20 di dicembre all'Unione dei Comuni. Abbiamo ridato centralità a Vallefoglia e a quest'area che è a cavallo tra Peso Urbino e la Romagna e è stato l'anno dell'edilizia scolastica. Abbiamo costruito nuove scuole, rimesso a nuovo quelle esistenti, in buona sostanza abbiamo dato nel 2018 che si conclude tutte le strutture scolastiche adeguate alle norme antisismiche, adeguate alle attuali norme previste dalla legislazione vigente e quindi per i prossimi 10-15 anni l'edilizia scolastica dal nido alle scuole medie sono in buona sostanza in ordine. E poi il 2019 sarà l'anno delle grandi opere, delle opere importanti, dalla centralità del Comune che nascerà a fianco alla Casa della Salute a Vallefoglia, a Montecchio di Vallefoglia, dal nuovo teatro che sarà un teatro tra Peso Urbino e la Romagna unico nel suo genere al servizio di questa vallata che nascerà a bottega di Vallefoglia, da una depurazione dell'insieme dell'asta fluviale per circa 13 milioni di investimenti che sarà realizzata da parte di Marche Multiservizi e della centralità di questa Unione dei Comuni che ovviamente sarà su grandi strategie, cioè le strategie dell'asta fluviale del foglio, della bonifica e della messa in sicurezza del sistema produttivo, del lavoro e questi 60 chilometri che siamo riusciti a dare allo Stato passandole dalla provincia all'Anas hanno dato una centralità per la prima volta a questa vallata che non aveva mai avuto, cioè una presenza forte dello Stato rimettendo in equilibrio la vallata del Foglia con quella del Metauro. Quindi le opere pubbliche, l'adeguamento del Teatrino, Branca, Sant'Angelo e L'Irso, l'adeguamento del Morciola Sporting il Metano e la depurazione di Montefabri e Monte di Colbordolo 400 mila euro di manutenzione idraulica di questi tempi del territorio nel Monte di Montecchio qui proprio a fianco alla Piazza della Repubblica che è la piazza centrale dell'insieme della vallata quindi un futuro, quello del 2019, di inaugurazione di opere pubbliche importanti ed una nuova centralità che fa sperare bene al futuro di questo territorio riportando la piena occupazione al benessere e alla crescita e per questo mi sento di inaugurare e di ringraziare i cittadini e soprattutto di augurare un buon anno, un felice 2019 e di ringraziare tanto tutti quelli che hanno aiutato a cominciare dai consigli quartieri che sono di nuove istituzioni del 2018 che danno l'idea che si può costruire una grande e più forte partecipazione democratica e stare sul pesto, realizzare tante opere e stare al servizio di questa comunità Grazie